e poi a proposito di gallina mi viene sempre in mente una barzelletta che si usava al mio paese quando c'era il mercato a Sora il giovedì la signora partiva con la corriera per andare a prendere un po' di puccini che poi sarebbero diventati galline e la signora bella chiatta, si fa una bella cesta piena di puccini e sta per ritornare al suo paese si mette sulla corriera dove non c'era posto oppa una frenata la signora si reggira la cesta che menzano a correre tutti i puccini una chiappa a due li mette alla cesta, tre li mette alla cesta, uno scappava a nanzi, si che si che la chiappa li mette alla cesta oppa ne poco si piega, ne poco troppo ci fa un altro somma si gira l'autista lo guarda e ci fa brava la signora, quello che ne riesce a chiappare spara viate tutti a comprare i puccini tutti con la corriera ma quanto è bello però eh